Qui davanti a me c'è la collega della TASS, Vera. Vuole dirle qualcosa? Io alla signorina, alla signora, io non la ritengo una collega, perché la propaganda russa, e segnatevi i loro nomi, hanno iniziato un popolo contro un altro. Per otto anni, ma anche un po' di più, hanno chiamato a noi nazisti, sì, non nazisti che poi due anni fa abbiamo eletto con il 75% dei voti, un presidente ebreo. Ma, chissà com'è, nazisti che leggono un presidente ebreo. E non è finito, se posso continuare. I propagandisti russi, e non solo russi, ci sono tanti anche, ce n'erano tanti anche da noi che parlavano, ed in Europa ce ne sono tanti, stanno nascondendo la verità ai russi. Perché i russi non sanno di quello che sta succedendo in Ucraina adesso. Loro non sanno che sono già migliaia i morti fra il loro esercito, centinaia quelli presi in ostaggio. Ieri, il vice primo ministro Irina Vereshuk si è rivolta alla Croce Rossa internazionale, per aiutare l'Ucraina a riportare le salme dei soldati russi uccisi in patria. Noi non li vogliamo, né vivi, né morti. Riprendetili. Dico solo una cosa, questa mattina guardavo il canale della televisione russa e in continuazione si mandavano alle spalle del conduttore, eccetera, le immagini delle milizie nazifasciste. E questo termine nazifascista-Ucraina, nazifascista-Ucraina, nazifascista ha rimbombato molto in quell'ora in cui osservavo attentamente queste immagini. Il nazifascismo, a proposito del presidente ebreo, è un po' cambiato anche questo, diciamo. Per la propaganda è stato bellissimo perché il nazifascismo è cambiato, tutto è cambiato. Cos'è il nazifascismo è cambiato? Certo, come sono cambiati tutti. È la Russia che sta facendo una guerra di aggressione contro l'Ucraina, uno Stato sovrano. Lei è lì che sta continuando a propagare la morte. Lei ha mandato tante persone russe in Ucraina a morire per niente. La propaganda del sindaco. Non sovrano, io in Ucraina parlavo russo, ovunque. La propaganda è la propaganda del sindaco. A Donetsk, a Kiev, a Odessa, ovunque. È meglio che non li ascolti più nessuno. Quanti propagandisti russi voi avete mandato a morire alla vostra gente? Voi state nei salotti televisivi. Lei a Milano o a Roma, gli altri a Mosca. E invece questi ragazzini di 18 anni, 20 anni, che sono morti in magliaia, lei ci andrà a parlare con le loro madri? Io ho parlato di quelli che sono scappati da Donbass, da una che ha ricevuto qua in Italia La mia compagna, che sta lì accanto, è scappata anche lei dal Donbass, dai russi, nel 2014. Un attimo, diamo la possibilità di replica, prego Vera. Scusi, ha ragione. Un attimo, vero, vera? A parte che i media russi sono discriminati, e io ripresento un'agenzia stampa, quella... No, ma così non si fa. Non si fa così. No, non si fa così. Non si fa così. Poverie, discriminati da chi? Avete la monopolità nel vostro paese di parlare. Tutti quelli che non sono d'accordo con voi sono stati o chiusi o ripubbentati in calcio. Io non ritengo che questo signore può fare a me qualsiasi, qualsiasi offesa o qualsiasi... Ma io a lei non faccio nessuna offesa, signora. Perché io rappresento l'agenzia stampa che riporta i fatti. Lei rappresenta un'agenzia stampa, lei rappresenta la propaganda russa. Un attimo, un attimo, un attimo per cortesia, Maestro, Maestro, un attimo, un attimo... Signor Giletti, mi scusi, ma dopo quattro giorni dove avrò dovuto vincere cinque ore... No, no, Maestro, Maestro, io la capisco per due motivi. Primo perché lì le tirano i cannoni addosso. Già questo basterebbe per essere un po' nervosi. Secondo perché capisco che chi la invade è un russo, è vera e è russa. Quindi c'ha due motivi ampli. Però le chiedo la cortesia perché la rispetto. Questa donna è qui e comunque affronta una platea complicata. Diamole la possibilità di rispondere. Poi, dopo sorridiamo insieme, però diamole la possibilità. Prego. Quindi, la propaganda, quello che ha detto il signore, scusa, non mi sono ricordato il nome... Maestro, Maestro, ma di nome... Vladi. Di propaganda che è già stata smentita, che è stata la propaganda che Kiev è circondata, ma questo ha detto lo stesso sindaco di Kiev, come io ho letto anche con l'agenzia... Non l'ha detto, l'ha già smentito. Appunto, ma... L'ha smentito, si è riaffermato. Ma come può essere propaganda se ha smentito se stesso? Mi aggiornate, se è vero, questo. Mi aggiornate, mi fai entrare? Si è smentito se stesso. Scusa, siccome qua stiamo aspettando i semafori, siamo in una diretta, quindi dobbiamo dare la notizia corretta, come dice Vladi. Allora, il sindaco di Kiev ha affermato che è falso che la città sia circondata e che le evacuazioni siano impossibili. Dice la diffusione della notizia è propaganda russa. E però partite da lui, allora come lo spiega che è partito da lui? Dice che sono partite, riferite delle frasi a lui, ma non è così. Questa è un'agi battuta pochi minuti fa. Appunto, quello che ho detto io, che noi abbiamo tanta confusione con l'informazione, davvero arriva, insomma, se avete visto pure Durov, quello che è fondatore di Telegram, ha voluto a un certo punto di chiudere Telegram sia in Ucraina che in Russia, perché arrivano le notizie infondate e non verificate che riprendono. Perché? Perché i media comunque fanno la guerra anche loro. Ma io voglio chiedere due cose. La prima cosa, noi facciamo vedere qui, insomma, un lato. Io capisco perfettamente perché io conosco benissimo e vedo l'opinione pubblica in Italia e lo comprendo, ovviamente, ma perché noi facciamo solo un lato, l'ultimo atto di questi 20 in Ucraina e perché non facciamo, non ritorniamo un po' indietro? Perché secondo me questo, ovviamente, non solo il continuazione della situazione del 2014 quando c'è stato un colpo di Stato perché anche Ionokovic era un presidente eletto, un presidente eletto, presidente eletto, dopo colpo di Stato che ha mandato la polizia a sparare sui fatti cittadini, che ha sparato sui fatti cittadini, scappato in Russia dove ha chiesto a Putin di inviare l'esercito per uccidere gli Ucraini. Ma se lei dice le falsità, lei mente. Allora, un attimo.